L'addestramento delle aquile Ecco Asholpan, ha 13 anni, è forte, è coraggiosa, ha un talento naturale E la sua avventura è solo all'inizio La principessa e l'aquila Nei migliori cinema Ciao, sono Lodovica e vi voglio raccontare una storia Da oltre mille anni i nomadi dei Monti Altai vivono in un rapporto speciale con le aquile reali L'addestramento delle aquile è un'arte segreta tramandata di padre in figlio Ma ora, per la prima volta, una giovane ragazza